continua la polemica sulle parole di diaco a bella ma il conduttore infatti si è reso protagonista di un dibattito dopo aver rimproverato un ospite in studio che aveva detto una parolaccia durante le settimane e le parodie sulla questione non si sono risparmiate alessandro katlan l'ho addirittura agitato per tutta la sera sulla stessa emittente televisiva rai 2 perché non si possono dire le parolacce anche fedez si è espresso sul caso perché poi ricorda che in realtà è uno sciuro solo è una persona basta è uno sciuro che si chiama rienzi che passa la vita a cagare il cazzo alla gente diaco scusami diaco alba parietti ospite dell'ormai celebre presentatore si è lasciata sfuggire una parola ed ha subito chiesto scusa al presentatore diaco spiega alla showgirl il suo punto di vista sulle parolacce ma subito dopo arriva la battuta della parietti scusa come posso chiamarla quella è una parolaccia il seno quella è un bel di dio insomma diaco ha ottenuto il rimbombo mediatico che ha tanto desiderato e tu cosa ne pensi